Amici e amiche dell'alta informazione potreste non aver mai sentito nominare il comune italiano che incassa di più dal contrasto all'evasione fiscale. Si chiama San Giovanni in Persiceto, ha 28.000 abitanti e si trova a metà tra Bologna e Modena in Emilia Romagna. Due anni fa questo comune è in testa, da due anni ben, alla classifica dei soldi incassati grazie agli accertamenti fatti dall'Agenzia delle Entrate partite dalla segnalazione dei comuni e non in senso relativo, vale a dire, in confronto alla popolazione, ma in senso assoluto ha raccolto più soldi di città ben più grandi come Milano e Roma. La ragione è la scoperta di un singolo grande caso di evasione fiscale, ma il modo con cui si è arrivata a questo risultato che mostra come molti altri comuni potrebbero seguire questo esempio. Infatti San Giovanni in Persiceto nel 2019 ha incassato un milione e mezzo di euro dal recupero all'evasione fiscale e quest'anno un milione e virgola tre sempre di euro. Il secondo comune in questa classifica è Genova nel 2020 ha ottenuto 580 mila euro, secondo i dati pubblicati dalla direzione fiscale del Ministero dell'Interno. Altre grandi città non sono riuscite a far meglio, Torino ha incassato 518 mila euro, Milano 345 mila, Bologna 295 mila. Sostanzialmente si tratta di un accordo tra amministrazione e Agenzia delle Entrate. E Domodossola sembrerebbe che questa soluzione sia stata prospettata da qualche dipendente all'amministrazione di centrodestra e al responsabile dei servizi tributi, ma che sia caduta nel vuoto. Come mai? È più semplice per un'amministrazione comunale tollerare l'evasione fiscale e rifarsi solo ed esclusivamente sui lavoratori dipendenti. Questa è l'Italia, pardon, questa è una certa Italia e Domodossola purtroppo non ne fa eccezioni. Voi cosa ne pensate amici ed amiche dell'alta informazione? Interagite in questa pagina, mettete il vostro pensiero e soprattutto condividete questo video dell'alta informazione. Lo trovate sul canale Facebook dell'alta informazione oppure lo trovate su Instagram, su Twitter oppure sul canale YouTube. Domani invece cercheremo di parlare di possibile sblocco per quanto riguarda natale o blocco totale, i pro e i contro in attesa di una decisione del governo. A domani con l'altra informazione.